Ciao Wojciech, giochi in porta per passione o perché da piccolo ti ci hanno messo? Ciao Laura, io gioco ora per il passione, però quando ero giovane volevo fare sempre attaccante, volevo fare il gol, però non ero tanto forte, quindi l'allenatore del mio settore giovanile mi ha messo di là e è uscito anche bene. Quando guardi i tuoi compagni da lontano, pensi di allenatore o prevedi le azioni? Sì, un po' sì, però sai, non ci ascoltano molto spesso, quindi il lavoro del portiere è molto particolare, però io ho grandi rapporti con i miei difensori e provo ad aiutarli ogni volta. La parata che hai sempre sognato di fare? Sì, il rigore al novantesimo, ho parato qualche rigore decisivo, però mai al novantesimo, quindi sarebbe buono farlo su una partita importante. Il portiere ha uno stile di vita? Sì, credo che sì, noi non siamo solo i portieri quando esciamo sull'allenamento o sulla partita, siamo portieri 24 ore, 7 giorni. Ciao Vajcek, fino alla fine! Forza Juventus! Ciao! 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 Così!